Un nuovo appuntamento con 45 giri di natura strettamente politica perché normalmente a fine anno ci sono i consuntivi di un anno e ci sono i bilanci di previsione per l'anno che verrà. Questo territorio ha in Sandro Mariani, che saluto e ringrazio, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, una referenza importante. Non è casuale il fatto che anche nella circostanza dell'esposizione del bilancio di previsione 2015 lui sia stato presente alla conferenza stampa che si è tenuta a Pescara nei giorni scorsi. Vorrei partire nella lettura di questo bilancio Mariani da un assunto diverso perché vorrei capire se la politica è maturata ed è cresciuta o se la politica non ha più niente da dire e se non ha più niente da dire succede che il Movimento 5 Stelle che aveva presentato pare oltre 700 emendamenti e alla fine si dichiara sostanzialmente soddisfatto del bilancio. Se il centrodestra, Gatti, Chiodi, Delmazio, D'Ignazio esprimono soddisfazioni per essere riusciti ad apportare qualche modifica al vostro lavoro e se alla luce di queste considerazioni diventa tutto normale a prescindere da chi è al governo o se la politica è maturata. Io non so leggerla questa cosa. Tu che chiave direttore Adai? Salve a tutti, naturalmente ringrazio avermi dato la possibilità di portare la mia testimonianza di capogruppo e di maggioranza qui in questo territorio che mi è tanto caro e sicuramente quella che è l'analisi fatta naturalmente è la stessa analisi che ha fatto sorridere me, vedere conferenze stampe da parte delle opposizioni, soprattutto l'opposizione la definisco di centrodestra per capirci, per evitare tutti i distingui vari, per non dilungarci. Naturalmente sentire l'opposizione che è stata grande maggioranza fino a ieri intestarsi tante di quelle questioni che in bilancio abbiamo inserito mi ha fatto francamente sorridere. Io in genere ho adottato uno stile, penso di essere sereno nell'affermare quello che sto per affermare, non ho mai attaccato gli altri, non ho mai parlato degli altri, mi piace più di parlare del mio partito, di noi stessi, di me stesso, di quello che abbiamo in mente di fare, di quello che vogliamo fare e di quello che abbiamo fatto in questi primi sei mesi. Però, come avete potuto vedere, ho dovuto per forza controbattere quando c'è l'esagerazione, perché è andato in onda l'esagerazione, perché se qualcuno adesso come ho dichiarato mi vuol far credere che dai banchi, dall'opposizione riesce ad ottenere, a incassare per il territorio della provincia di Tenomo più di quando era maggioranza, francamente lascio giudicare la gente. Se poi vogliamo, come dire, in un balzerino che spesso si ripete in politica, che chi amministra dice vorrei fare di più, ma per colpa di quelli che mi hanno preceduto non riesco a fare tanto e bene, è un classico, diciamo, io non ho mai detto questo, perché penso che uno quando si candida è cosciente, non è che uno viene costretto a candidarsi, quindi sa benissimo e ha l'obbligo e ha il dovere di informarsi sulla situazione, sulla fotografia, sul fotogramma che ha in quella realtà in cui si va a candidare e nel frattempo appunto uno non può poi lamentarsi. Chiaro le analisi sono giuste, vanno fatte, le fotografie, perché è fondamentale far sapere alla gente quello che uno trova, quella che è la situazione, in un'operazione verità, doverosa, però poi non può essere questo il motivo per cui uno, come dire, passa i primi 24 mesi dell'attività amministrativa a dire sapete, guardate, io pensavo, non posso fare perché ho trovato delle posizioni debitorie, ho trovato difficoltà di vario genere, perché questo non regge. Così come non può esserci da parte delle opposizioni, come dire, adesso questa grande esposizione mediatica nel volersi di intestare quello che noi abbiamo messo nel bilancio. Poi naturalmente, come ho già detto, in questi giorni quello che accadrà da qui in cinque anni la gente saprà bene a chi dare appunto le paternità e le maternità delle cose che nasceranno. Non era una domanda che volevo farti, ma insomma è molto attinente, quindi una piccola parentesi voglio aprirla su Santomero, che è un comune di Sestato, dove governa il centro-sinistra e dove abbiamo visto un po' la fotocopia di quello che tu stai in qualche maniera censurando, criticando, senza entrare forse nei dettagli, ma senza entrare nei dettagli. Però qui abbiamo riscontrato una situazione pressoché analoga, dove c'è stata l'impossibilità detta della Giunta che governa di poter governare. Tu che chiave di lettura dai a questa situazione? Beh, io più volte sono sentito con il sindaco di Santomero che Andrea, lo chiamo per nome perché è un amico, quindi di conseguenza, avendo anche un'affinità anagrafica, quindi sicuramente fra giovani c'è una solidarietà, c'è un feeling importante, io sa benissimo il sindaco che sono al suo fianco per qualsiasi cosa, come ho fatto in questi mesi e lo sarò da qui in futuro, anche perché va fatto un plauso a chi così giovane decide di candidarsi, questo sicuramente, come dire, ha tutta la mia stima e tutto il mio sostegno su questo. E' chiaro che lì c'è una situazione molto particolare, c'è una situazione complessa, è una situazione che esula dal discorso che stavo facendo prima, perché naturalmente io parlo di situazioni normali quando uno nel politichese cerca di dire appunto, o cerca di affermare, anche giustamente delle volte, dice non riesco a fare più di tanto perché ho ereditato. Sant'Omero è una cosa diversa, Sant'Omero è una cosa accertata, c'è una situazione molto difficile, c'è una situazione molto complessa e naturalmente lì va fatta un'operazione di ricostruzione, quello che noi possiamo fare da amministratori regionali, sicuramente l'assessore, che è amico, collega Dino Pepe, così come Monticelli, così come il sottoscritto, sicuramente cercheremo di dare una mano al sindaco di Sant'Omero su quelli che sono come dire gli spazi a noi consentiti, dove è di gioco e di azione, e su tutto quello che si può fare, però ripeto, una situazione molto complessa, molto difficile, forse l'unica che attualmente c'è e persiste nella provincia di Teramo, accertata. Senti, provo a chiederti se è provocatorio o se lo condividi o se non lo condividi, quello che è un po' il titolo di questo spazio, noi ogni spazio lo classifichiamo con un titolo, questo bilancio di previsione, secondo noi era un bilancio di previsione più o meno previsto, sei d'accordo? Posso essere anche d'accordo per il 95% del bilancio, è chiaro che oggi con le risorse che ci sono a disposizione, con i tempi in cui viviamo, molto di quello che si discute in bilancio è già prefigurato, perché penso che voi siete d'accordo con me che quando si parla di disabilità sociale, quando si parla di cultura, tutto è importante, tutto è fondamentale, quando si parla di mondo del lavoro, attività produttive, tutto riveste di importanza notevole, in questo naturalmente uno deve mettere le risorse e vi devo dire che è stata una bella esperienza formativa per me, ma anche molto difficile da portare avanti insieme all'assessore al bilancio e che da capogruppo appunto c'è stato un gran lavoro nelle commissioni, poi in consiglio, perché quando si sente il peso della responsabilità capite bene che lasciatemi passare questi termini, tagliare da una parte e mettere più dall'altra, oppure viceversa, naturalmente per chi è dotato di sensibilità, di attenzione, di senso civico, diventa molto duro, perché poi ci nasce anche una sorta di battagliamento interiore, perché dire che forse c'è più bisogno lì più che su un altro aspetto, quindi su questo naturalmente è diventata dura oggi amministrare, per chi è dotato di sensibilità ed è connesso e collegato al territorio, per chi poi vive su Marte naturalmente poi questi problemi non li ha perché decide freddamente e cinicamente. Allora, cercheremo di leggerlo un po' questo bilancio di previsione partendo dal dato generale, 6 miliardi e 234 milioni, è questo il bilancio di previsione della regione Abruzzo, 300 milioni in più circa del bilancio precedente. Tanti, pochi? Giusti? Contando che sapete benissimo, ormai lo sanno tutti, quello che riguarda l'aspetto della sanità, la sanità oggi assorbe quasi integralmente, adesso uso questo termine integralmente per rendere la misura, quasi integralmente il nostro bilancio, quindi capite bene che lì si giocano le battaglie future. Questo lavoro è stato già messo in campo dalla precedente amministrazione, ecco io sono molto corretto in questo, nel riconoscere alle opposizioni che allora erano maggioranza quello che hanno messo in campo e quello che hanno determinato. Hanno determinato sicuramente una nuova stagione nel campo della sanità, obbligata, eravamo costretti, percorsi vincolati, sì va bene, però c'è stato questo, noi questo percorso lo stiamo proseguendo, sappiamo bene che la nostra sanità è commissariata, quindi la situazione è di notevole difficoltà per la regione Abruzzo e lo si vede nei ragionamenti che spesso noi andiamo a fare, dove di fatto noi non abbiamo una libertà di decidere totalmente su quello che è la nostra sanità abruzzese, questa libertà pensiamo, ci auguriamo e speriamo di riacquistarla presto e questo ci permette anche degli spazi di manovra importanti, perché capite bene che come per un bilancio familiare, se un nucleo familiare impiega l'80% delle proprie risorse, il proprio stipendio per una questione, ne rimane il 20% per le altre, quindi di conseguenza su questo si gioca anche lo spazio di ragionamento per gli altri settori, quando mi si dice sulla cultura c'è poco, sull'attività produttiva, sull'artigianato, sul sociale, siamo d'accordo? Parliamo di percentuali minime, siamo allo 0, quando parliamo di sanità naturalmente lì tutti si inchiodano, tutti praticamente hanno paura, esprimono preoccupazioni nell'andare a tagliare, nell'andare a decidere, nell'andare a determinare qualcosa di diverso, basti pensare, questo è stato una delle esperienze che più mi ha fatto riflettere, cioè quando mi dicono vabbè così giovane sei consiglia regionale, te lo aspettavi, questa è la frase tipica del classico, la domanda classica, nel vernacolo, insomma questa è un po' la frase tipica, il ritornello che la gente ti rivolge, dico sì mi aspettavo più o meno tutto, naturalmente parlando a livello generale, che poi specificatamente ho avuto modo di assaporarlo e di viverlo adesso ricoprendo il ruolo, quello che non mi aspettavo naturalmente era, ed è tutta questa complessità geografica che ha la sanità terramana, che è veramente preoccupante, oggi noi e qui c'entra con il bilancio, perché da qui parte anche una nuova visione futura, per agganciarci a quella frase che all'inizio della trasmissione appunto mi rivolgevi, cioè quello dice ma ha ancora senso, la politica determina ancora qualcosa, la politica determina qualcosa, se ha il coraggio anche di cambiare quella che è la sanità oggi concepita in provincia di Teramo, io so che Chieti e Pescara sta facendo un ragionamento di un ospedale unico, che è una cosa, grande coraggio. Se ne sta parlando ancora di più nel Piceno? Se ne sta, sì, nel Piceno, naturalmente, che poi come dire la Toscana e le Marche e l'Emilia Romagna in genere sono, arrivano prima, arrivano prima, e qui c'è un discorso dove noi non riusciamo nemmeno a fare dei ragionamenti su quelli che sono i doppioni, lasciatemi passare questo termine nei quattro punti ospedalieri che persistono nella nostra provincia, naturalmente non sto parlando del punto nasce di Atri che è un aspetto particolare, però parlo di tante altre questioni che in realtà non serve appunto essere medici oppure esperti manager della sanità per capire che le cose così non possono andare avanti e che qualcosa bisogna pure cambiarlo. Io ho una regia molto attenta che ha ricordato la soddisfazione del 5 Stelle, ha ricordato la soddisfazione parziale anche del centro-destra e ci ha ricordato un'altra cosa importante che per la prima volta la Regione Abruzzo approva prima di Natale il bilancio di previsione. Io credo, senza nulla togliere a nessuno di voi, che se c'è una guida così attiva come quella di Luciano D'Alfonso, vengano quasi naturalmente riscontri di questo tipo, perché quando alla politica bisogna dare addosso, bisogna farlo, ma quando è celere negli interventi giusti o sbagliati che saranno, lo verificheremo nel tempo, poi anche questo va detto e da questa angolazione abbiamo un Presidente di Regione che è lavoratore come lui, io nella mia vita ne ho conosciuti pochi, questo è un dato di fatto. Sicuramente questo è un dato di fatto, la conferenza stampa che io ho convocato appunto a Pescara l'altro giorno era, che appunto interpretava questo spirito, cioè che da capogruppo esprimo grande soddisfazione in quanto appunto è un risultato politico, storico, quello di incassare il bilancio in tempi record, ma non è il fatto di essere arrivati primi a incassare un qualcosa che poi dovrà determinare nel 2015 certe questioni, fa capire un'altra cosa ed è questo su cui io appunto mi sono soffermato, che cosa fa capire? Fa capire che ci sono le dei chiare, fa capire che c'è un'agenda, fa capire che praticamente questo è un gruppo dirigente che sa quello che vuole, sa da dove è partito e dove deve arrivare, non è cosa da poco, la riforma, la grande riforma della legge 77 che ha riguardato le strutture della Regione Abruzzo, che non è stata una cosa semplice, la grande riforma che stiamo mettendo in campo sulla trasportistica, sui trasporti, non è una cosa di poco conto, quello che faremo sulla sanità non è una cosa di poco conto, quello che faremo in provincia di Teramo con l'assessore Dino Pepe, con il consigliere Monticelli, insieme tutti quanti dove determineremo l'agenda della provincia di Teramo, per la prima volta noi faremo una cosa, mi permetto di definirla, eccezionale, a febbraio noi faremo una riunione pubblica dove diremo insieme, perché siamo uniti, siamo compatti, perché sentiamo la responsabilità di incassare i risultati per la provincia di Teramo, non sentiamo l'ansia che avevano quelli di centrodestra di braccarsi per dire io arrivo prima dell'altro collega, noi siamo del Partito Democratico e sappiamo che siamo dei teramani della provincia di Teramo e sappiamo benissimo, sappiamo benissimo, ecco qui mi soffermo un attimo e vorrei come dire che si ponesse l'evidenziatore su quello che sto per dire, che dobbiamo praticamente dimostrare che in questa provincia accade qualcosa, cosa che non è accaduta negli ultimi cinque anni, quindi io sorrido quando qualcuno oggi si intesta qualcosa, però sfido chiunque a dirmi in cinque anni dove abbiamo avuto la più grande forza amministrativa regionale che forse, della storia, della storia d'Italia forse, che c'erano in cinquanta, come dire, in cinquecento metri quadri c'erano trassessori regionali, in una provincia c'era di tutto di più e si amministrava a tutti i livelli, ditemi che cosa si è determinato di importante che oggi possiamo dire si è fatto questo in cinque anni, oppure, soprattutto in questa zona, soprattutto in questa zona, che ripeto appunto, la più penalizzata da Abruzzo, questa, le zone montane, la Valfino, io vi invito anche a fare, come dire, un'analisi a 360 gradi di tutta la provincia, per vedere se è accaduto qualcosa da qualche altra parte, da una parte questo, e quindi sicuramente dall'altra parte c'è anche l'aspetto che non c'è neanche nulla in cantiere, c'è perché se ci fosse qualcosa in cantiere, io oggi potrei dire sì, abbiamo ereditato questo progetto. Abbiamo ereditato qualcosa, no? In realtà non c'è neanche questo, il mio non è un attacco, il mio è un'analisi oggettiva, sul cinque stelle preferisco non parlarne perché francamente, come dire, ho un grande rispetto per chi li ha votati, perché so perché li hanno votati, oppure penso di sapere che li hanno votati, non vorrei risultare arrogante nella cosa, però mi sono interrogato più volte perché tanta gente vota il Movimento 5 Stelle, io l'ho definito una rivoluzione composta, giustamente dettata anche dall'esasperazione, da certi atteggiamenti di certi politici che hanno dato un cattivo esempio, oggi le pene le paghiamo più noi che siamo giovani e nuovi che loro, che naturalmente si sono macchiati di tali scempi. Naturalmente lì c'è stata una reazione di un determinato tipo, francamente i rappresentanti che ci sono in giro, la maggior parte, come dire, io li vedo un po' scollegati dal territorio e dalla realtà, perché poi un conto, e questo naturalmente non posso essere contraddetto su questo aspetto, perché un conto è quando uno fa tutta la gavetta e parte, come ho fatto io, come ha fatto Dino Pepe, come ha fatto Monticelli, a fare l'amministratore locale e via via dicendo, crescendo, come abbiamo fatto tutti quanti noi, quindi uno i problemi li ha vissuti a livello territoriale, li ha affrontati, ha cercato di risolverli, oggi si trova su una dimensione regionale, ma sapendo che cosa vuol dire la dimensione particolare dei territori, perché poi quando si fa l'amministratore regionale è vero che si ha una dimensione regionale e si è ad un certo livello, come si dice spesso, ma quel certo livello presuppone pure che ci sia una conoscenza nello specifico dei territori. Su quello che riguarda il centro-destra io apprezzo molto quello che è stata l'opposizione fatta e condotta in maniera intelligente e furba da Febbo e Sospiri, che abbiamo visto qualche istante fa in onda. Ho capito pure perché nella provincia di Teramo noi in questi cinque anni di centro-destra è avvenuto poco o nulla, perché loro sono veramente bravi, preparati, puntuali, combattivi, quindi ho visto che Febbo e Sospiri invece hanno ottenuto e ottengono. Questo vorrebbe, tradotto giornalisticamente in maniera volgare, dire loro sono bravi, gli altri lo sono stati molto meno. Sono stati determinati, sono bravi, sono bravi, sono bravi, sono bravi, devo dire che... Senti, noi abbiamo 50 secondi prima di uno stop commerciale, voglio analizzare sul fronte delle entrate del bilancio, un dato che da modesto amministratore mi suona strano, nel senso che non so spiegarlo, forse può spiegarlo in pochi secondi Sandro Mariani, perché c'è un avanzo di amministrazione pari ad un miliardo e 30 milioni di euro dal governo attuale, cioè dalla gestione 2014. 2014. Se io vado a leggere volgarmente questo dato, dico non ho speso un miliardo. È corretto o è sbagliato? E se è sbagliato perché? Non è corretto perché ancora andiamo a vedere tutte le ricognizioni, quindi di conseguenza ancora c'è una fase in evoluzione su tutto questo. Nel frattempo noi appunto abbiamo fatto un bilancio di previsione che non è andato in maniera puntuale sulle questioni, abbiamo cercato per lo meno andarci il meno possibile sulle questioni puntuali, anche per evitare che ci sia quello che volgarmente spesso viene definita la marchetta territoriale. Poi ci sono delle cose specifiche ma che hanno un'importanza. Ma un miliardo è tanto. Un miliardo è tanto, ma su un bilancio di 6 miliardi, naturalmente c'è... 15%, 20%. 20%, ma ci sono ancora tutte quelle questioni che vanno determinate da adesso in poi, che poi in realtà lasciano uno spazio di manovra minimo di 4-5 milioni di euro, questo è quello che... Dovrebbe essere quello quindi il... Questo è quello che poi determina una libertà di ragionamento alla fine delle questioni. Quindi anche perché vanno anche accertate le entrate adesso che, come da qui a febbraio a marzo appunto si andranno a definire, quindi le variazioni di bilancio in corso poi d'opera nel 2015 ci permetteranno poi di aggiustare i tiri oppure di correggere. Sapete che benissimo che c'è uno spettro che noi abbiamo, che è quello del taglio 120 milioni di euro alla regione Abruzzo come le altre regioni da parte del governo nazionale. Questo naturalmente... È un altro dato. ...ci impone una riflessione profonda. Poi faremo una riflessione su un'altra voce di entrata dopo lo stop commerciale fra pochissimi secondi. Non basterebbero ovviamente 45 minuti per cercare di leggere al meglio un bilancio di previsione. Figuriamoci se di un ente come quello della regione che governa qualcosa come 1.600.000 1.700.000 euro al giorno rapportandoli poi per un anno, perché più o meno sono queste le cifre. Chiedo a Sandro Mariani nel leggere un altro dato, poi se vuoi ci soffermeremo sulle spese che sono in previsione una riflessione su una voce di entrata di 2.800.000.000, che sono tanti su 6 milioni, che sono soldi che arriveranno dalla gente, perché sono soldi che arrivano da tributi e da gettiti erariali. È un dato che se comparato al passato ci dà qualche speranza di ripresa o è un dato sul quale nulla si può e nulla potrete? Sicuramente su questo c'è la più grande riflessione, la più grande sfida che dovremmo affrontare, perché se da un lato abbiamo sempre detto di far ripartire un territorio, un territorio naturalmente ha la possibilità di risorgere, perché questo è il termine giusto, soprattutto per la valvibrata, attraverso vari sistemi. Uno qual è? Le opportunità che uno riesce a dare agli imprenditori, cioè comunque la pressione fiscale che uno esercita per quello che riguarda il nostro compito, il nostro ruolo regionale e quindi su questo sicuramente si deciderà da qui in futuro, comunque si determinerà l'appeal più o meno positivo per quello che è l'attuale composizione del governo regionale che ci riguarda di persona, quindi sicuramente su questo la gente si aspetta un alleggerimento fiscale, perché sappiamo benissimo quelle che sono le difficoltà, ma soprattutto le attività produttive stanno a guardare, questo è un territorio dove naturalmente oggi gli imprenditori ci chiedono di sopravvivere, di respirare, perché questo determina anche maggiori investimenti, maggior occupazione, è qui che si gioca la nostra partita e dove punta soprattutto il nostro Presidente. Sandro, non voglio entrare molto nei tecnicismi perché non sono neanche in grado di farlo, ma su questa voce, per quello che ti ricordi, per quello che puoi conoscere, c'è una discrepanza sostanziale rispetto all'esercizio 2014, cioè questi 2 miliardi e 800 milioni equivalgono più o meno ai soldi che sono stati tirati fuori o sarebbero stati tirati fuori dagli abruzzesi? Più o meno sono gli stessi ed è quello per cui noi abbiamo voluto correggere il tiro e per quello che poi il Presidente Chiodi diceva di aver ottenuto un grande risultato, in realtà il ragionamento è quello, nessun amministratore oggi pensa di voler opprimere le popolazioni i propri concittadini con una pressione fiscale allucinante, anche perché dico che ognuno di noi naturalmente c'è anche una parte personale, di orgoglio personale che tende a farci bene, a fare meglio, a fare bene, a fare meglio, quindi sicuramente su questo noi c'è il massimo impegno a dare dimostrazione ai territori che noi gli siamo vicini. Chiaro che su questo c'è, come dicevo prima, un grande timore nel 2015 che poi, come abbiamo visto e come stiamo vedendo, si sta materializzando, che è quello di un taglio da parte del Governo nazionale, notevole, importante, all'incirca 120 milioni di euro, si parlerà di questo. Sono tanti. E questo impone da parte nostra poi certe scelte dure, perché poi quando si discute, l'abbiamo visto e lì tutto diventa importante, cioè io ho avuto modo di vedere, adesso parlo di temi su cui sicuramente come tutti saranno d'accordo, cioè comunque c'è l'aspetto delle strutture semiresidenziali dei disabili, la riabilitazione, c'è l'aspetto degli autistici, c'è l'aspetto dell'unione ciechi, cioè tutte queste realtà che io conoscevo, che naturalmente si rivolgono alla politica, e lì diventa veramente duro spiegare a questa gente o alle famiglie che hanno un disabile, tutte le difficoltà e tutto il carico economico che devono sopportare, direva siccome noi dobbiamo fare una cura dimagrante, siccome abbiamo meno risorse, noi non vi possiamo dare. È semplice a dirlo così. Non è neanche semplice a dirlo forse, figuriamoci a farlo. Il problema è questo, cioè io ho avuto modo di incontrare appunto tante famiglie quando riguarda l'autismo, preoccupate, è veramente lì, cioè c'è stato... Bisogna inventarsi qualcosa. Inventarsi qualcosa, più che altro, più che inventarsi qualcosa bisogna dare delle risposte. Inventarsi qualcosa per dare delle risposte. Per dare delle risposte, giustamente. Su questo naturalmente noi questo peso, questa sensibilità la sentiamo tutta sotto questo aspetto. Non vado oltre perché, ripeto, non basterebbero 45 minuti, però un aspetto mi piace sottolinearlo perché poi va dato a Cesare quel che è di Cesare, i costi per esempio di esercizio del personale della regione si riducono del 38% che non è poca cosa, è vero che si sono ridotti anche i numeri dei consiglieri, però ridurre del 38% una spesa del personale non è poca cosa e ve ne diamo ovviamente merito, senza però dimenticare che questa voce incide il 2% sul costo del bilancio. Quindi forse bisogna essere più creativi. Passami questo termine. Sicuramente mi piace il termine perché naturalmente oggi bisogna veramente essere creativi e veramente inventarsi di tutto di più per cercare di dare delle risposte e di andare avanti, che è un po' quello che accade purtroppo nelle famiglie. Torno a ripetere un concetto che poi specularmente avviene anche quando si amministra. sicuramente c'è stata una riduzione della spesa importante, 2% sicuramente è poco, se lo guardiamo sotto l'aspetto percentuale, delle percentuali, ma sicuramente è un segnale. Non possiamo dimenticare sicuramente l'aspetto che noi abbiamo dato vita alla più grande riforma della regione Abruzzo e non è una cosa da poco. Lì c'erano dirigenti che giustamente avevano fatto il loro lavoro, egregiamente, preparatissimi, ma che 30 anni persistevano nelle loro posizioni dirigenziali. Noi abbiamo messo in campo una grande riforma, ma l'abbiamo fatto non per punire il dirigente che non ci era simpatico politicamente o a livello epidermico. Perché è giusto cambiare. Perché è giusto comunque per una regione che vuole essere al passo coi tempi, che vuole essere una regione in evoluzione, capace di interpretare le nuove esigenze, si dota anche di un gruppo dirigente dinamico, fresco, nuovo, che ha anche una certa dinamicità anche di pensiero di lavoro. E su questo appunto c'è stata questa grande riforma. Non è stato come pensa qualcuno, un voler sostituire, cambiare o punire soggetti che non c'erano simpatici, non erano funzionali a noi stessi. Ma abbiamo praticamente messo in campo questa grande riforma e sappiamo bene che da qui in poi, in cinque anni, come le definisce Luciano D'Alfonso, le pozzanghere uno le incontra, questo è un termine che usa lui, che piace anche a me, le pozzanghere uno le incontra quando il dirigente naturalmente non è collaborativo, quando il dirigente naturalmente dopo trent'anni, come avviene per la politica, avviene anche per gli altri ruoli, probabilmente c'è anche la stanchezza che prende il sopravvento su questo. Quindi sicuramente i giovani devono stare in politica ma devono stare anche altrove, come insegnano altri paesi che vanno meglio di noi, quindi la dinamicità, la freschezza, la voglia di fare. E questa gente che invece ha avuto dei ruoli importanti, ha un'esperienza, non è che uno li mette da parte, ma li abbiamo riutilizzati, tra virgolette, questo termine, riutilizzati per rendere l'idea, in altri ruoli, in altre questioni. Parlo dell'ingegner Caputi che trent'anni sta ai lavori pubblici, grande esperienza, verrà utilizzato con la sua professionalità, con le sue competenze per i contratti di fiume, che è una grande partita, importante, dedicata, che ci riguarderà e che sicuramente lui con la sua esperienza ci aiuterà a fare bene, a fare meglio. È anche un'esperienza nuova per questi dirigenti che da tanti anni fanno la stessa cosa. Allora, senza ricordare quanto incide il costo della sanità, perché siamo su diversi miliardi, contabilità speciali, un miliardo e 59 milioni per i fondi e così via via dicendo. Per scendere alle voci da 0, fra le tante voci da 0, per cento di bilancio, chiude una voce che mi lascia un po' perpresso. Io adesso capisco che no. Però se il turismo nel bilancio di previsione della regione Abruzzo avrà 4 milioni in bilancio pari allo 0,06 per cento dei costi di gestione, mi chiedo, ma non è proprio possibile fare meglio considerando che la nostra regione ha, avrebbe, dovrebbe avere, lo sento dire da anni, da quando ero piccolo nel turismo, una delle voci più importanti da dover sfruttare per rilanciare economia, lavoro, territori e quant'altro? Sì. È l'ultima delle voci di bilancio. L'ultima. Sì, è l'ultima delle voci di bilancio, sapendo che questo è un bilancio di previsione. Certo. Di conseguenza noi adesso abbiamo dovuto cucire un vestito con le materie prime che avevamo a disposizione. Poi faccio questo esempio. Però se il buongiorno si vede al mattino. E' chiaro, c'è sicuramente un segnale. Questo è un segnale, è indubbio appunto che sotto questo aspetto il bilancio poi, ecco, non è che uno lo può interpretare, i numeri... E ne ribaltare. Uno può anche mettere in campo quello che accadrà e che avverrà su alcuni aspetti, su alcuna voce... Sull'Europa? ...so cui già so benissimo. Progetti europei, finanziamenti europei? Sì, su questo va bene, questo rientra e esula un po' dall'aspetto puro del bilancio regionale. Tutto quello che viene da altre direttrici è un altro discorso, quello che riesce a mettere in campo un gruppo dirigente con le proprie capacità e le proprie qualità. Dico, bisognerebbe forse per il turismo lavorare in quell'ottica? Lavorare in quell'ottica. che va poi a inficiare anche il prodotto turistico locale. Naturalmente la provincia di Teramo ha avuto modo di vedere, l'avevo già letto, l'avevo già visto, poi girando l'Abruzzo da amministratore ne ho toccato con mano anche qui la realtà delle cose. La provincia di Teramo è quella che turisticamente, mi permetto di dire, è la migliore ed è veramente il fiore all'occhiello della regione Abruzzo. Quindi qui si sente di più questo problema, lo si percepisce. E' chiaro che qui riguarderà quel ragionamento che agli inizi di febbraio faremo con, farò e faremo insieme con gli altri consiglieri regionali per determinare quelle che sono le priorità per la provincia di Teramo. Cioè io vorrei fare da capogruppo quello che si è fatto a livello regionale giustamente con Luciano D'Alfonso, cioè fare un'agenda di priorità. Dire sul completamento dell'SP3 è una priorità di tutti e tre i consiglieri regionali, del presidente della provincia di Teramo, del segretario provinciale del PD e di tutti i sindaci del PD? Sì. Allora questo è il nostro primo punto. Dopodiché... Che dobbiamo portare a termine. Il turismo è un qualcosa che va potenziato, su cui dobbiamo battagliare, combattere, spenderci e impegnarci affinché ci siano più risorse. Perché questa provincia ne risente più delle altre? Sì. Allora su questo fare 4-5 punti importanti, prioritari che sono i punti di tutti. Questo che cosa determina? Questo determina quel pericolo che c'è spesso appunto di una lotta tavica fra chi amministra nella stessa provincia. Quindi su questo noi sappiamo che ci mettiamo la faccia, che ci ripresentiamo i nostri elettori per evitare che ci accada quello che è accaduto al centro-destra, di ripresentarci fra 5 anni e dire che cosa avete determinato, che cosa avete fatto, che cosa è accaduto. Allora su questo noi diciamo che questo abbiamo fatto tutti quanti insieme. Poi quello che è il patrimonio personale, di capacità, di relazioni, di individuare anche il problema del singolo comune, del singolo cittadino, quello è un qualcosa che poi arricchisce di sfumature e di particolari, quello che è un gruppo poi politico, un partito, un gruppo dirigente insomma, che è un altro aspetto. Più volte hai fatto richiamo al territorio della Val Vibrata e la cosa mi fa piacere. Io opero da due anni in questo territorio, continuo a sentire sempre più mie, giornalisticamente parlando, le esigenze di questo territorio e facevo una riflessione mentre tu parlavi legata al fatto che due consiglieri, comunque in maggioranza, un assessore e il capogruppo in maggioranza, a mente, che io ricordi non mi sembra che questo territorio li abbia mai avuti perché anche di Luca e di Matteo erano su sponde diverse. Allora, cominciamo a chiarire degli aspetti. Io credo che questo territorio abbia necessità di comunicare e di sentirsi parte integrante della regione Abruzzo. Come si fa? Lancio un'idea. Non perché siamo una televisione che opera nel territorio con una proprietà locale, rappresentata da professionisti molto locali, ma credo che questo territorio debba, anche con questa emittente, farsi sentire quanto più possibile voi, tu e Pepe soprattutto, più degli altri e non correre il rischio di, ed è successo ed è per questo che mi considero quasi uno sfogo in diretta, ma è la verità. E non deve succedere che se ci sono delle campagne pubblicitarie promozionali di informazione dell'ente regione e vengono dati appalti a questa o quella televisione, per l'amore del cielo, come giusto che sia, se questa o quella televisione però non coprono questo territorio televisivamente parlando, non si deve correre il rischio che questo territorio anche lì rimanga penalizzato. Ecco, questo lo pretendiamo da cittadini, non da operatori della comunicazione, da cittadini soprattutto da voi. E non è una tirata d'orecchie, ma è un dire le cose come vanno dette nel rispetto di questa gente, che deve sentirsi parte integrante di un territorio e non credo lo si sia sentita moltissimo negli ultimi anni. Sono d'accordo e tra l'altro ci sono due questioni su cui mi soffermo. Uno è naturalmente quello che io pretendo da consigliere regionale quando mi approccio sullo scenario, sulla geografia regionale, è pretendo che ci sia il risultato per la mia provincia, ma non per campanilismo. Campanilismo. E semplicemente perché se ci sono dei distretti dove io sono il punto di riferimento, perché vengo eletto dalla gente di questo posto, devo naturalmente e fisiologicamente rispondere alla gente della provincia di Teramo. Io penso che questa provincia decolla se è capace di fare ragionamenti in maniera sinergica fra tutti i territori. È complesso, questo tocca al politico, perché la Valfino, la Montagna, la Costa, la Val Vibrata, Teramo, sono realtà diverse, ma queste realtà diverse, queste peculiarità sono poi la ricchezza e gli ingredienti che fanno la ricetta vincente. Quindi compito di fare crasi, di fare sintesi è sicuramente il compito nostro. E quindi su questo individuare le sinergie e i punti di forza. Non dimenticando un aspetto fondamentale, cioè questa è una zona di confine, una regione che noi guardiamo con ammirazione sotto certi aspetti, sotto certi aspetti. Lo sottolineo perché poi non voglio neanche distrattare la nostra che ha avuto grandi amministratori, ha avuto grandi momenti nella nostra storia che non ha nulla a invidiare con le altre regioni. Però è chiaro che qui avviene un qualcosa, questa è una zona di passaggio, una terra di mezzo se vogliamo, fondamentale. Qui forse c'è quel territorio, quell'incubatoio dove impiantare quelle embrioni che poi come dire noi, lo stesso Presidente Luciano D'Alfonso, più volte cita, più volte ne parla. Perché naturalmente se il Molise dice di voler essere adottato dall'Abruzzo, adesso faccio più o meno il riassunto di quello che si è detto in questi sei mesi da parte del Presidente Frattura, se noi diciamo allo stesso tempo di voler fare la macro regione adriatica, di voler comunque avere una sorta di sinergia, una sorta di ammirazione verso un fratello maggiore, una sorella maggiore che è quella della regione Marche, naturalmente la Val Vibrata non può che essere un punto di cerniere importante, fondamentale. È qui che vanno impiantati, questo l'ho già detto anche nelle riunioni di maggioranza, anche nei tavoli deputati a discutere, ad approfondire le questioni, ho già detto che la Val Vibrata è il luogo dove determinare nei primi 12-24 mesi gli esperimenti, in senso buono, economici, imprenditoriali, politici, da mettere in campo per guardare alla macro regione adriatica, naturalmente, non è che nella Valle del Trigno che è la zona confinante con il Molise, uno pensa di mettere su i primi embrioni che guardano alla macro regione adriatica, naturalmente. Credo di no, ma anche perché geograficamente ipotizzando la macro regione, quindi una regione, insomma il centro di questa regione, naturalmente diventa la Vibrata. È chiaro che la partita importante per la Val Vibrata, diciamoci chiaramente, è tutto quello che è stato in passato una grande realtà, quella del Tessile, che ha fatto scuola ed è ancora oggi un punto di riferimento nei ricordi, nelle memorie di tanta gente che incontro, anche di altre regioni. È chiaro che qui si percepisce la necessità di ripensare questo settore e la politica capace di interpretare, di aiutare questo ripensamento e questo ridisegnamento di quello che era la realtà Tessile della Val Vibrata. Molti parlano di agriturismo, delle eccellenze agrituristiche di questo territorio come alternativa a quel che è stato, però sono chiavi direttive diverse. Però mi soffermo su un aspetto che appunto il Vice Presidente, nonché assessore con delega le attività produttive Giovanni Lolli, mi faceva riflettere su una questione. Dice, lo sai che la Seven in Abruzzo fattura tanto come fattura il turismo di tutta la regione Abruzzo? Cioè una sola realtà industriale, azienda, che è quella della Seven... Fattura quanto il turismo? Allora naturalmente ci fa capire che cosa, che questa è una regione che non vive purtroppo ancora di turismo e su questo bisognerà fare ancora tanto. Probabilmente, io non lo so se si riuscirà ad avere un'indipendenza soltanto dall'economica di sopravvivenza anche dei territori, della gente che abita qui, con quello che deriva o potrebbe derivare dal turismo. Sicuramente bisogna puntarci, come si è fatto negli ultimi anni, come continueremo a fare noi, su un binario questo. Sull'altro binario non possiamo dimenticare tutte le attività produttive, tutte le aziende tessili che erano qui, perché o li aiutiamo a ripensare, ridisegnare, come dicevo prima, anche la loro geografia imprenditoriale e quindi stargli a fianco e sapergli stare a fianco, che è la cosa più difficile, oppure qui si determina anche un fallimento sotto questo aspetto? Purtroppo 45 minuti, sembrano tanti ma sono pochi, sono già scaduti, abbiamo già superato anzi anche i 45. Io voglio ringraziarti per la disponibilità, ovviamente avremo l'opportunità quasi certamente di ritrovarci molto presto, anche per cominciare a snonciolare quel che conseguirà dal bilancio di previsione della regione per il 2015. Puoi approfittare per salutare non solo i tuoi elettori, ma anche chi non ti ha votato per il prossimo anno. Sicuramente saluto tutti i cittadini e rinnovo la mia disponibilità perché poi, come quando ho avuto la possibilità e la fortuna di essere amministratore nel mio comune, le più belle soluzioni, le più belle idee mi arrivavano dalla gente. Cioè ricevendo la gente, ascoltando la gente, stando a contatto con loro, comunque era il più grande input, il più grande stimolo, le più belle soluzioni che poi sono arrivate nella mia mente e per il mio territorio. Quindi sicuramente chiedo un aiuto costruttivo, produttivo, tanto oggi i social network ci danno una grande mano per avere contatti con gli amministratori e quindi su questo sicuramente insieme a Dino Pepe e a Monticelli, a tutti i PD della provincia di Teramo, sicuramente dall'anno nuovo, dal 2015, che è alle porte, ormai ci siamo, determineremo una nuova stagione, non solo per il nostro territorio, ma anche politica, anche nel modo di fare politica e nel messaggio che manderemo alle popolazioni. Grazie Sandro Mariani, 45 giri tornerà regolarmente come ogni giorno dal lunedì al venerdì per la prossima edizione, quella di domani. Buon proseguimento di giornata.